C'è un evento in corso che il papà deve documentare. Cosa succede qua? Cosa succede qua? Cosa succede qua? Qua c'è un taglio di capelli. In corso. E' mica il primo taglio di capelli della sua vita, signor Pietrone. Come va? Ma è tutto bello ordinato adesso. La mamma sta prendendo una mano di bestia proprio. Gli sta tagliando i capelli con le unghie per le... Con le forbici per le unghie, ma non importa. Perché con la smistata così ti fa giocare? Qua far, vuole dire due parole? Che secondo me il risultato sarà veramente tremendo. Guarda che ciuffettino. Pietro intanto non capisce e si immagina il Playmobil. Anzi, il Puffo. Non è facile qua. Per esempio, qua su che tu dicevi sono tanto lunghe. Adesso sono corti. Perfetti, così sono perfetti. Va bene. Ti ha lavato la mamma e poi ti ha presa a tradimento? Comunque il papà per due mesi ha detto che bisogna tagliare... Anzi, due mesi. Otto mesi ha detto che bisogna tagliare i capelli al pubis. Ed è stato preso a male parole. Poi arriva il suo...